E questa non sia un'annata molto fortunata per la Juve, lo si è visto oggi, quando al parco venuto una mezza rossata di caos, si è schiacciata contro la traversa della porta che lo propone. Che poi la Juventus abbia giocato quasi tutto il resto del primo tempo, a ritmo a qualche plano, e a modo approssimato, è un altro discorso. E mentre la Juve torna a ritaglio, in un paese che ci fa in finale, la la...